Apre un nuovo locale su Viale Trieste in una inaugurazione che sarà anche il primo passo al ripristino di uno degli alberghi pesaresi più riconoscibili e capienti per numero di camere. Domani infatti sarà inaugurato il Botanic, locale al piano terra dell'hotel Cruiser, albergo che in estate ripartirà in forma rinnovata sotto la proprietà di Nardo Filippetti che a fine 2021 lo rilevò all'asta per un'operazione vicina ai 7 milioni di euro. Cruiser che sarà gestito dal figlio Marco Filippetti e aspettando di affrettare i tempi in vista di giugno, il febbraio della struttura ad angolo fra Viale Trieste e Viale Marconi riapre i battenti in quello che per tanti anni fu conosciuto come Dox e che ora rinasce come Botanic, un brand che raddoppia in versione bistrò, infatti il locale Botanic esiste già in zona Sassonia di Fano ed è piuttosto frequentato da clientela pesarese. A gestirlo sarà Davide esposto in una formula ricettiva da colazione a mezzanotte. Primo passo di vitalità in mezzo ad impalcature che per giugno andranno smontate per riaprire un Cruiser a 4 stelle che si dividerà fra Turismo Balneare e Business Hotel da 12 mesi l'anno.